Mercedes-AMG scende in campo con la nuova S63 AMG, la più potente berlina ad alte prestazioni del segmento superiore che fissa nuovi parametri di riferimento in termini di dinamica di marcia, leggerezza strutturale ed efficienza. A garantire le eccellenti prestazioni di marcia provvederà il motore V8 Biturbo AMG da 5,5 litri con una potenza massima di 585 cavalli ed una coppia di 900 Nm, il più potente della famiglia di motori Blue Direct. Grazie a un largo impiego di materiali leggeri, secondo la filosofia AMG Lightweight Performance, la S63 AMG peserà fino a 100 kg meno rispetto al modello precedente. La combinazione fra efficienza del motore e riduzione del peso consentirà un consumo di carburante pari a poco più di 10 litri per 100 km, secondo il ciclo combinato. Adesso la nuova S63 AMG sarà disponibile a richiesta anche con la trazione integrale 4Matic, progettata per garantire le massime prestazioni. Dal punto di vista del design e degli equipaggiamenti rimane pur sempre una classe S e quindi sarà capace sicuramente di soddisfare le esigenze più elevate in termini di prestigio, qualità e perfezione.